Tappo nuovo, giusto? Diamo una novità per andare un po' a conservare e a preservare queste sensazioni molto precise e molto accattivanti dei nostri vini. Stiamo andando a utilizzare per la prima volta, anche nella mia storia, quindi non solo sul tuo vino, ma anche sul nostro, stiamo andando a utilizzare un microgranulato. Questo differisce dal monopezzo, che come suggerisce la parola è un pezzo di sughero intero, custellato, quindi stampato direttamente sulla corteccia. Andiamo a usare in realtà tutta quella parte di ritagli, che vengono sanificati, compressati e poi vanno a creare questo, che sarà il nostro tappo. Che differenze ci sono? Ovviamente qua avremo un passaggio di ossigeno più ridotto, quindi andremo a controllare meglio tutte quelle che sono le ossidazioni. Ricordiamo che il tappo non deve essere impermeabile, diciamo, non al 100%, ma deve andare a lasciare, a passare un po' di ossigeno. Diciamo che questo ne fa passare in meno del sughero, quindi avremo un'evoluzione appunto più controllata. Quindi anche un attimino più sul lungo termine si regge? Sì, solitamente questo tipo di tappi vanno proprio a valorizzare i profumi del vino durante la sua fase di gioventù. Poi quando invece vogliamo spostarci sui 10, 12, 15 anni di invecchiamento, ma non è quello che interessa a noi, è meglio andare a tenere invece il monopezzo.